Abbiamo un nuovo assessore Paola Geremia alla cultura e alla scuola, quindi una donna che entra in giunta. È una giunta che però nei prossimi anni vedrà altri cambiamenti. Presentata la nuova giunta del sindaco Luca Piero Bon, Marina Beltrame sarà il primo vice sindaco donna nella storia della città e si occuperà di servizi sociali e pari opportunità. Marco Simeoni è l'assessore ai lavori pubblici, Filippo De Rossi rimane l'assessore al commercio e alle attività produttive, come anche Diego Galli che rimane l'assessore alla protezione civile, mentre la novità all'interno della squadra Piero Bon è Paola Geremia, assessore alla cultura e alle politiche giovanili. Nel corso del mandato ci saranno dei cambiamenti dove andremo ad inserire delle persone nuove, nuove che vuol dire giovani o comunque nuove alla politica, che formeremo in questi anni in modo per arrivare poi a fine mandato con un'aggiunta che sia rinnovata nella gran parte dei suoi componenti. Nella nomina degli assessori Piero Bon ha esteso il suo programma, includendo nuovi interventi che verranno attuati da subito e avranno come obiettivo lo sviluppo di nuovi rapporti con le frazioni dove vive la maggioranza delle persone. Una maggiore attenzione agli anziani, una maggiore attenzione alle pari opportunità, una maggiore attenzione alle politiche abitative e poi ecco da sindaco ho ottenuto l'assessorato che riguarda i rapporti con le frazioni. Un'aggiunta a rotazione ogni due anni che propone il rinnovamento tanto richiesto e voluto dai cittadini stessi. Il mio obiettivo è sempre di portare sempre di più le donne in risalto perché credo che la parte femminile sia la cosa aggiunta in un mondo maschile come è la politica.